bella a tutti i forniters benvenuti e bentrovati sulla tube eccoci in questo video per andare a fare il carico della fase storia della prima parte consegna l'essenza raccolta a Hope quindi non ci resta che dirigerci dove si trova Hope che si trova esattamente qua giù qui abbiamo preso la nostra bella moto da cross siamo a 500 metri ormai ragazzi arriviamo insieme 300 metri mega trick oddio non proprio trick stavolta no abbiamo semplicemente cambiato posto vediamo se riusciamo a trovarla Hope è qui da qualche parte ok ci avevamo già parlato eccola qua no questo è Jonesy Hope è di là qua sotto per l'esattezza sono qui per trovare qualcosa uno strano potente manufatto diciamo solo che non mi stupisce che i vecchi midi e leggende di quest'isola abbiano deciso ma cosa cavolo cosa cavolo vai a fare va bene ok dove è scappata eccola tornata su deciso di svegliarsi sospetto che questi demoni invasori sono collegati questa essenza aiuterà me e il mio partner a capire come grazie per l'aiuto ci sentiamo e con questo abbiamo terminato tutti gli incarichi storia ragazzi mi raccomando come sempre continuate a seguirci mettete un bel mi piace lasciate anche un commento e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti